questo è il centro stile benelli siamo in italia a pesaro qui lavoriamo sul prodotto e qui prendono forma nuove idee il nostro marchio a 110 anni di storia un patrimonio unico per noi designer questo rappresenta una grande fonte di ispirazione una grande responsabilità molte delle moto realizzate sinora sono rimaste vere e proprie icone e ci guidano nel descrivere il nuovo linguaggio estetico formale che ci porterà nel futuro conoscere la nostra storia ci aiuta a disegnare il nostro domani il nostro lavoro parte dall'individuo quindi da un disegno si comincia sempre con la matita con un foglio bianco su cui vengono rappresentati i primi concetti creiamo dei bozzetti che vengono poi selezionati e rifiniti fino ad arrivare alla definizione dello stile a questo punto si passa alla modellazione preliminare si lavora con superfici 3d in modo da avere un modello per la fresatura in scala 1 a 1 la tecnologia ha un ruolo importante ma successivamente è di nuovo l'approccio artigianale a fare la differenza il prodotto viene modellato con il clay a mano e l'esperienza da virtuale diventa reale vengono scolpite le superfici vengono levigate alla ricerca di eleganza e di naturalezza ancora una volta è l'individuo a fare la differenza il leoncino 800 nasce su una base tecnica appositamente sviluppata per ospitare il nostro nuovo motore bicilindri con fronte marcia questo nuovo layout ha richiesto un'evoluzione dei concetti stilistici già introdotti nel primo leoncino presentato nel 2015 il telaio in traliccio di acciaio suggeriva fin dall'inizio un aspetto più aggressivo e moderno rispetto alla versione 500 gli stilemi sono stati essenzializzati su proporzioni più muscolose e rastremate anche se rimane forte l'ispirazione all'architettura classica l'obiettivo è far incontrare l'eleganza e la temporalità dell'età classica con la dinamicità e la potenza del mondo moderno questa è anche l'essenza del codice estetico benelli per il futuro proporzioni compatte e muscolose e volumi da latitudine dinamica che trasmettono potenza linee pulite e un'eleganza trasmessa da un'espressione formale semplice ma distinta questi sono gli elementi alla base del leoncino bellezza e desiderio senza tempo